Il caso del precario milionario tutto è forche unico e a quanto sembra nemmeno raro. Del resto lo aveva detto lo stesso presidente della regione, Rosario Crocetta, quando alcuni giorni fa aveva denunciato la presenza dell'ex PIP con reddito ISEE da 150 mila euro e un patrimonio da oltre un milione, tra coloro che percepiscono il sussidio mensile di 832 euro dalla regione. Proprio in quell'occasione il governatore aveva annunciato nuove denunce e controlli a tappeto che evidentemente ci sono stati e cominciano a dare i primi frutti. Sono infatti già 86, compreso il caso del lavoratore segnalato da Crocetta, i precari espulsi dalla regione in queste ore. Il provvedimento firmato dal dirigente del Dipartimento Lavoro della regione, Anna Rosa Corsello, riguarda persone che percepiscono il sussidio ma le cui posizioni economiche sono risultate irregolari rispetto alle norme. Dai controlli infatti è emerso che questi soggetti hanno redditi superiori al tetto di 20 mila euro, fissato dall'ultima legge di stabilità per avere accesso ai benefici regionali. Il bacino di lavoratori svantaggiati o ex detenuti per i quali la regione paga questi sussidi conta circa 3 mila persone, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il Dipartimento Lavoro sta controllando i redditi di tutto questo personale, buona parte assegnato alla pulizia di ospedali e scuole. Non escluso dunque che il numero delle espulsioni nei prossimi giorni continui a crescere.